Megalò 2 non sa da fare, lo ribadiscono oggi Confcommercio Confesercenti, CNA e WWF Pescarachieti che questa mattina in vista della prossima seduta del Comitato Via per il progetto Mirò hanno annunciato che si costituiranno in giudizio al TAR. Già Megalò fu realizzata senza autorizzazione ambientale, ricorda il WWF. I successivi ampliamenti non hanno ragione d'essere per questo. Il fatto che oggi si pensi ad una via postuma è assurdo perché non è auspicabile nel caso di costruzioni realizzate dopo una bocciatura. Bocciature confermate anche in via giudiziaria, prima il Comitato Via, poi il Consiglio di Stato infatti hanno espresso parere negativo alla realizzazione di Megalò 2. E ciò che è stato realizzato andrà abbattuto e demolito. La Regione Abruzzo, a mio avviso, in maniera puntuale, sta osservando l'ordinanza del TAR per verificare se effettivamente deve procedere a questo esame preventivo. Tutto ciò, a mio avviso, fa la Regione Abruzzo perché è ben conscia che questa via postuma non può andare da nessuna parte. Quello che noi aggiungiamo come associazione ai pareri legali già espressi in maniera esaustiva dall'Avvocato Febbo è che nella fattispecie non è possibile effettuare nessuna sanatoria. E quindi in maniera immediata, senza ulteriore proroghe, bisogna provvedere alla demolizione dei manufatti perché sono già stati giudicati negativamente dal punto di vista sociale, economico, ambientale e della sicurezza. Quindi noi chiediamo alla politica che manifestino il loro dissenso, il loro favore nei confronti di questo progetto che riguarda non solo la città di Chieti ma tutto il territorio. Io ritengo anacronistico continuare in questo modo ad intasare le aule giudiziarie per una cosa che ormai la proprietà dovrebbe rendersi conto di aver fatto un investimento sbagliato e arrendersi. Il mondo sta andando avanti in tutt'altra maniera, questi scatoloni vuoti dei centri commerciali sono archeologia commerciale in tutto il mondo, quindi non sono proprio neanche da favorire se vogliamo. La pandemia ha dimostrato la necessità dei negozi di vicinato, incalza anche l'online e questo è il vero nemico da combattere probabilmente su tutti i fronti, quindi basta queste cause che a quanto pare poi non portano a niente.